Sono Manuel Moriconi della ditta Sice, la Sice è un'azienda che è nata dal 1980, si occupa esclusivamente di ponti radio. Penso che Sice ha da questi anni qua un prodotto che sicuramente è molto utilizzato legato alla video sorveglianza. Sicuramente il prodotto più interessante che è stato oggi della fiera è la CPE video, la CPE video che potete vedere anche sul nostro sito sicetelecom.it, è una CPE dove possiamo andare ad alimentare e collegare due telecamere direttamente all'apparato radio senza l'utilizzo di un apparto switch. Questa cosa qui sicuramente snellisce molto l'installazione sul palo e è stata molto molto apprezzata dai nostri installatori. Noi siamo Toscana a Lucca, facciamo tutti i mesi dei corsi di formazione per i nostri clienti, sia per quanto riguarda la parte video sorveglianza, visto che siamo distributori di tre brand, Icvision, Avigilon e Mobotix, in più organizziamo tutti i mesi un corso per quanto riguarda la parte radio.